La curva salirà ancora e probabilmente la settimana prossima ci troveremo con una curva molto più in alto di come è oggi, però la grande maggioranza per fortuna oggi dei ricoveri sono di medio-bassa complessità, bisogna che gli ospedali si attrezzino a creare dei reparti, non necessariamente solo Covid, ma che all'interno delle varie specialità della medicina interna, della pneumologia ci siano delle aree Covid, perché oggi abbiamo molti pazienti che hanno la polmonite da Covid, che è giusto che abbiano un percorso, ma molti altri che hanno il tampone positivo, che è giusto che vadano in reparti con tutte le misure di prevenzione, ma nei loro reparti, chi deve andare in ortopedia, chi deve andare in chirurgia, non è possibile che noi abbiamo solo dei contenitori stretti per il Covid e che il resto dell'ospedale non riceva questi malati, abbiamo bisogno di avere all'interno degli ospedali spazi più ampi per accogliere tutte queste persone.